Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati su Happy Wheels. Come al solito, io sono Lion e oggi, guardate cosa abbiamo davanti, già una lista bella pronta di livelli strani e incazzosi sicuramente. Non riusciremo a batterli tutti, ma vedremo. Li ho messi in ordine questa volta per i più giocati di questa settimana, quindi iniziamo subito dal primo, che si chiama Explorer Cool Whip 1.1. Mmm, di che si tratta? Che ca... Ma, ma io questo livello me lo ricordo, gira gira. Aspetta, fermo, bravo, fermo. Oddio, infatti mi ricordo, c'era una... questa è la versione 1.1, cioè migliorà. Pa-pem! Però è sempre divertente, ragazzi, è sempre divertente, fa un culo. Babbo Natale, grassociccione, taglia erbe, orrendi, cazzo. Mori, mori. Ah, oh mio Dio, che crudeltà. Che crudeltà, che crudeltà. Crudeltà. Non so. Babbo Natale, vieni qua. Boss, c'è il boss, fermi. Sarà il bimbo di nuovo. Pa-pem! Ah, sei morto. Ok, vabbè, non vuoi votazioni, ma pensi... Bla, bla, bla. Ok. È finito? Yeee! Devo dire che non mi dispiace mai questo livello, eh. Devo essere sincero. Secondo, ninja training, con training scritto male. Quindi sarà sicuramente molto bello. Ok, allora. Attenzione, bisogna fare molta cautela con questo punto, perché... Esatto! Proprio... Ah, proprio per questo motivo. Vedi? Vedi? Aspetta! Tranquillo! Eh, vedi? Tutto a posto. Hai avuto un po' una perforazione del culo. Però... Ah, oh! Riproviamo! Ok, allora. Qua abbiamo capito, bisogna essere cauti. E infatti, infatti, ci siamo riusciti. Qua no! Aspetta! Aspetta, perché se noi adesso... No! 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 Fermo! Cazzo, sono morto, vero? Sì. Eh... È rispacciato, è rispacciato. Non è per essere, no, senza speranza, però è rispacciato. Ah, scappino. Aspetta, adesso devi casca... Bravo! 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 Ok, don't... Ma vaffanculo! Eh, eh, che cazzo? Non mi sembra neanche giusto così. Oh, oh! Che cazzo si era distrutto il secco? Basta! E il livello è sfigato questo livello. No, ancora! Ah! Però è vivo. Vediamo dove va a finire. Oh, no! Sembrava vivo, avevo vinto. Avevo quasi vinto. Più o meno. Eh... No! Oh, porca putta, ma ti piace allora? Eh, vabbè. E allora? Eh, che cazzo? Sto livello è impossibile. E io... Ma... Eh... 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 Zit! Ah, buon Dio. Aspetta. Adesso. Qua con calma. Vuoi essere più... Collaborati... Oh, mio Dio! Ma ci si butta, eh? Ci si butta apposta. Vai! Eh, vabbè. Eh, prendi le tutte quante, queste insidie, cazzo. Se ce ne fosse stato un altro di spinzone, l'avrebbe preso lui. Perché gli piace. Fermo! Aspetta, fammi caricare... Bravo! Hai visto? Quando ti impegni... Eh? Adesso, qua, che cazzo dobbiamo... Ok, ah, ho capito. Qua bisogna strisciare. Perché, eh? Se tu vai lì a... Eh... Saltellare, ti insichisci. Quindi adesso, aspetta, che qua... Ok, basta. Non puoi più strisciare. Qua bisogna però girare in questa maniera qua. È facile. Facile. Ok. Good. Good. Oh, no! Oh, ma... Ma... Ma che... Ragazzo! Com'è successo? Quando? Chi? Perché? Soprattutto. Ci riproverò ancora una volta perché il livello mi piace. Però... Ci riproverò ancora una volta perché il livello mi piace. Però... Eh... Sarà l'ultima... Eh... Non cascare, sai? Ok. Questo penso lo abbiamo imparato. Basta rotolare. E vai, affanculo però! Io non ho saltato. Che cazzo! Sono rimasto traumatizzato da ciò che è appena successo. Infatti... Ci riproverò ancora. In modo da rimuovere il trauma. Fermi! Aspetta. Bravo. Eh... No! No! Sei uno schifo sei, cazzo. Uomo segue! Bisogna trovargli un nome, cazzo, questo qua. Questo qua lo chiameremo... Gianni! Però detto proprio così, non Gianni. Gianni! Vabbè? Eh! Ma si poteva... Ma che cazzo era? Non c'era bisogno di saltare là sopra, allora? Ma vaffanculo! Gianni! Sei un imbecille! È rotea, Gianni! Bravo! 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 Vedi? Vedi? Riesci! Eh! Non è che sia così difficile. Qua attento, perché ho visto Gianni... Che hai difficoltà... A incastrare la testa nei punti, quindi... Aspetta. Oh! Eh! 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 No! No! Attenzione! Bravo! Gianni! Oh! Hai visto? Ah! Finalmente! Finalmente! Guarda! Là! Papem! Eh! Hai vinto Gianni! Bravo! Ah! Gianni è un imbecille! Ok! Abandoned! Vediamo questo qua! Questo sembra più facile anche dal nome! Ricorda la semplicità! Difatti... Non si carica... Ok! Eccolo! Minchia! Beh! Uè! Uè! Cosa sta... Sono in trappola! Aiuto! Aiuto! Oh! Cosa sono... Cosa sono quelle strutture? Chi è quella figura che mi sta osservando? Vai di... Oh! Oh! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Questo livello è... È terribilmente spaventoso! Cosa c'è qua dietro? Niente! Perché a volte ci sono i segreti, no ragazzi? Lo sapete? Eh! Chi ha acceso la luce? Chi? Chi ha... Chi è... Vai via! Oh mio Dio! Una struttura aggressiva! Fuggi! 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 Gianni verrà in tuo aiuto! Aspetta... No! Fermo! Bisogna indietreggiare per prendere la rincorsa qua! Ma c'è ancora la struttura dietro di noi? Ah! Sì! Oh mio Dio! Mi stava cercando di molestare! Fuga! Fuga! Fuga dalla struttura! Aspetta! Però perché qua rischi... Oh mio Dio! Rischi di morirne eh qua! Io te lo dico! Uomo del segue! Oh no! Oh mio Dio! Oh cazzo! Mor... Do... Eh? Dove cazzo? Oh eh eh! C'è un tizio impiccato! Aspetta! Fermi! Tanto la struttura adesso non c'è più! Eh eh eh! Chi è? Oh Dio! E lui ha chi era quella cosa là? Aspetta! Sto aspettando! Cosa Scannic? Aiuto! Fammi uscire! Che cazzo è un... Un mortorio qua! Un obitorio! Scusate! Oh Dio! Devi trovare due chiavi? E dove? Sei matto! E' più il questo è! Mi cagliam ninja! Eh! Fammi andare! Oh buon... Eh! Eh! Ma che cazzo? Ma questo lì... Ah! Oh oh! Oh oh! Oh no! Oh no! Oh no! Eh vabbè! Non mi ha ucciso ma sono ancora qua però! Che cazzo! Posso aggrapparmici però! Eh! No! Aspetta! Fermo! Oddio! Sei sudici o uomo del segue! Fer... Devi... Ok! Aspetta! Rimbalza! Schifoso! Gianni! Non sei Gianni! Vaffanculo! Lo riavvierò! Perché è molto bello! Però è difficile anche... E di quel tizio Kirby Pwnage! Che tra l'altro ha fatto anche quegli altri livelli che ci piacevano un casino! Se vi ricordate! Tipo Pokémon! Quella roba là! Quelli li ha fatti questo qua mi sa! Alcuni perlomeno! Quindi è molto bravo! Anche se i suoi livelli laggano un po'! Ma questo è abbastanza normale quando è pieno di... Di oggetti sullo schermo! E più Wilson non è! Un gioco adatto! Oh mio Dio! Chi cazzo è stato di là? Chi è sta? Ah! Ancora la figura! Orrenda! Brutta schifosa! Che cazzo dovrebbe essere poi un ragno? Ho perso la del metto! Ho perso la del metto! Ho perso... Oh oh! No! Aia! Mi sono piegato in due... Eeeh! Cosa c'è? Aspetta un momento! Cosa c'è qua? Aia! Che cazzo mi è... Eeeh! Azzo! Ma che cazzo? È pieno di insidie! Chi era quello lì? È un brutto mostro della melma! Però! Aspetta... Liberami! Liberami! Eeeh! Liberami! È brutto! Figura... Nera! Lascia mi sta! Schifoso! Ehi! Ah! Aia! Ah! Vaffanculo! Che modo di iniziare di merda, eh! Non ho già più le gambe! Sono... Sono... Uno strisciante a rotelle! Questo livello è figo! Però è veramente difficile! Qua scende abbiamo capito il mostro bianco! Quindi qua abbiamo capito che non ci dobbiamo neanche andare! Ma proprio niente! Però... Però... Tuttavia... Sono ancora voglioso di andare a vedere chi è questo qua! Questo mostro qua! Infa... Ehi! Fammi scendere! Ok! Infatti adesso io andrò dall'altra parte! Perché sono furbo! Vai! Vai! Che arriva! Bravo! Di qua, invece... Andrò in avanti! E ci sarà... Ci sarà... Un cesso! Cos'è? Ui! No! Ehm... Ho perso tutte le braccia! E adesso sto affogando... In un oceano di merda! Bene! È un ottimo modo per iniziare la giornata! Ci vorrei riprovare ancora io ragazzi! Perché il livello è bello! Però cazzo! È difficile di brutto! Ci proveremo ancora una volta! E poi basta! Perché... Minchia! Difficile eh! Però è veramente figo! Ah sta figura di me! Ehi! Brutto tu! Vai via! Puscia via! Che... Mi hai messo qua in questa situazione! Piena di mostri! Di vari tipi! E di varie etnie! E io muoio! Ah! Per... Per non farsi male cadendo con l'uomo segue! Bisognava se non sbaglio! Premere! Ciotrl! Mi pare! Perché lui si... Rincagnava leggermente sulle ginocchia! Quindi... Ricordiamocene! E fa... Vaffanculo! No! No! Aia! Ma vaffanculo! L'ho premuto io! Ciotrl! Allora di là non si può andare... Quindi dobbiamo per forza andare di qua! Di là c'è il mostro! E... No! No! Fuggi! Fuggi! Datela a gambe! Adesso io di qua... Se vado di qua sono sicuro... Ci sarà un'insidia! Però ci voglio andare ugualmente per vedere! E infatti! Guarda che schifo! Guarda che schifo! Oh mio Dio! Però sono vivo! Ok non sono più vivo! Che cazzo è? Che schifo! Che schifo cazzo! Che schifo! È pieno di insidie! Troppo insidie! Non è vivibile questo... No basta! Voglio provarne un altro paio! Questo livello ragazzi però se volete lo proveremo la prossima volta! Perché è veramente figo! Poco Olympics! Facciamo questo che sembra più rilassante! No! Gianni! 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 Sembra uguale! Aspetta! A quello di prima! Gianni! Vai! Vaffanculo! Cosa c'è là sotto? Ho visto qualcosa... Ehi! Ho intravisto io eh! Gianni! Vai con più coraggio in te stesso! Devi credere che ce la puoi fare! Sennò salti di meno! Aspetta! Ok! È l'ultimo... Forse è l'ultimo... No! Non è l'ultimo! Vaffanculo! Vai! Gianni! Esasperante Gianni! Perché lui ci prova... E fallisce... E... E... Vedi? Sei stronzo! Va! Gianni! Vai! Ok! Dai! Dai che gliela fa... Oh! Vedi? Devi solo avere più fiducia! Bravo! Guarda! Guarda che bravo! Bra... Adesso devi essere pro! Addirittura! Così non è pro! Così non è nemmeno! Però ci stai avvicinando a... A carponi! Bravo! Aspetta adesso! Vai! Ok! Ce la puoi far! Devi solo... Aspetta! E... Quasi! Eri vicino... Vaffanculo! Vaffanculo! Eh! Eh! Bravo! Ok! Ah! Questo qua è... 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 Difficile! E guarda! No! No! Dai! Ma vai affanculo Gianni! Tu e tua sorella! Ma vai affanculo davvero! Non ci giocherò mai più con Gianni! Mai più! Voglio fare quest'ultimo glass break! Perché secondo me sono sempre divertenti quelli dove devi rompere il vetro! Oh mio Dio! Ok! Ho capito! Questo è estremamente difficile! Vai figliuolo! Vai! Vai! Ah! Eh! La pre... Vaffanculo! Aspetta! Vai! Oh mio Dio! Vai figliuolo! No! No! Azzo! Va a cagare! Figliuolo di merda! Vai! No! Mm! Vai! Ah! Che cazzo! Ai! Oh! Ok! Ho capito! Fermi! Ah! Ehm! Voglio... Devo... Ah! Aspetta! Fermi! Ah! È troppo difficile! Oh! Buon Dio! Aspetta! Aspetta! Oh! Sono vivo però eh! La bicicletta ce l'ha fatta! Ah! 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 Voglio fare la mia! Ah! Eh! Eh! Sì! Sì! Ce l'ho fatta! Impossibile livello cazzo! Impossibile! Ah ragazzi! Ok! Per questa volta è tutto! E... Io vi auguro una buona giornata! Se la giornata di oggi dovesse essere finita mentre guardavate questo video riguardatelo domani così potrò augurarvi di nuovo una buona giornata! Lion! Out! Out!